Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Degnaliamo la presenza di personale su strada in A1 tra Sassomarconi e Calenzano, le due direzioni tra Rezzo e Valdarno in direzione nord. Fipilì tra Scandicce, Firenze e Scandicce, tra Ponte d'Era Est e Montapoli e Valdarno, il tutto verso Firenze. Siamo alle statali sulla statale 1 Aurelia per lavori di ripristino della pavimentazione. È temporaneamente chiuso lo svincolo la California-Cecina-Sud tra Cecina e Bibona in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Grosseto. Il completamento degli interventi è previsto entro giovedì 30 marzo. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Parigi delle 15.05 quest'oggi è cancellato. Buonasera di Sintoscana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.